I finanziari del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni per oltre 700.000 euro relativi a crediti d'imposta inesistenti e riguardanti interventi mai eseguiti nel settore dei bonus fiscali. I provvedimenti sono stati disposti a seguito di specifiche attività condotte dalla tenenza di Cetraro, che hanno svelato un articolato sistema fraudolento finalizzato ad ottenere indebitamenti e cosiddetti bonus, da ristrutturazione di lize, bonus facciate, ecobonus e sisma bonus. Le investigazioni hanno permesso di accertare anche un giro di operazioni fittizie, compresi prelevamenti incontanti, che servivano a non far scoprire il giro d'affari che si celava dietro. In totale sono state 5 le persone indagate a vario titolo per indebita percezione di erogazioni pubbliche e riciclaggio, con il conseguente sequestro di disponibilità finanziari, 11 tra abitazioni e terreni, nonché diversi veicoli e blocco del credito fiscale, artatamente realizzato dagli indagati sull'apposita piattaforma digitale gestita dall'Agenzia delle Entrate.